L'esperienza che stiamo vivendo qui a Trieste, la 50esima settimana sociale dei cattolici d'Italia, è sicuramente un'esperienza arricchente. La delegazione di Sorrento Cascello a Mare ha partecipato ottimamente alle giornate della settimana sociale e tutti noi hanno avuto anche l'opportuna di poter partecipare come facilitatrice all'interno dei lavoratori, seguendo del metodo Grandi. Qui abbiamo toccato con Mauro il potenziale che questo metodo ci regala e che può essere utilizzato all'interno delle comunità, unità diocesane, per fare un vero e proprio esercizio di partecipazione democratica. La voce del singolo attraverso il metodo non va persa, anzi viene valorizzata e concluisce nel lavoro di gruppo, come risonanza. Questo fa sì che tutti si sentono inclusi e nessuno escluso. C'è il simbito al punto tale che viene proprio richiesto di poter essere affricato alle realtà che noi abitiamo e quindi ampiamente democratico. Questa è la richiesta che proviamo oltre a tanti stimoli che ci hanno regalato i regalatori e tutti coloro che hanno poi partecipato intellettualmente a costruire la settimana sociale di Trieste.